Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi un video super speciale, sono emozionatissima nel darvi questa notizia. Finalmente il lavoro di mesi e mesi e mesi, finalmente adesso lo potete vedere, su candidashop.com è online il nuovo sito, con le nuove foto dello shooting che ho fatto con il mio caro Armando la Pietra, che ringrazio tantissimo che in questo momento è qui davanti a me e io lo adoro perché mi ha aiutato a fare degli scatti super professionali. Sono soddisfattissima di tutto il lavoro intenso che abbiamo fatto, di tutto il cuore e la passione che ci abbiamo messo perché vi prego andate adesso su www.caritashop.com e andate a vedere quanto è diventato figo il sito. Sono troppo troppo felice, ovviamente grazie a voi che mi supportate sempre, siete in tantissimi. Abbiamo dopo quasi un anno, perché da quasi un anno che ho online il sito Caritashop, abbiamo moltiplicato le vendite, quindi ogni giorno riceviamo veramente tantissimi tantissimi ordini. Questo per noi è una soddisfazione grandissima. Vi ringrazio tanto anche a nome di Dario perché veramente grazie a voi ci sentiamo realizzati e io finalmente ho realizzato il mio sogno, ho reso il mio sogno una realtà stupenda, quindi grazie a voi che mi supportate tantissimo. Abbiamo voluto quindi dare questo nuovo look al sito e quindi dare questa immagine ancora più figa e per l'occasione c'è un bellissimo regalo per voi, una sorpresa stupenda, un bel codice sconto per approfittare e fare super scorta dei vostri prodotti preferiti su caritashop.com. Il codice sconto ve lo scrivo qua ed è sconto nuovo sito. Con questo codice nel momento dell'acquisto su Caritashop avrete uno sconto del 15% su tutti i prodotti presenti su caritashop.com. Quindi vi invito a fare scorta dei vostri prodotti preferiti e vi do qualche suggerimento poiché ci sono tante tante novità che le potete trovare sia nella home page, se guardate nella home page ci sono tutti i prodotti scontati che ogni giorno cambiano. Ogni giorno noi abbiamo determinati prodotti in sconto, quindi li vedrete ogni giorno diversi. Approfittate perché ogni giorno ci sono diversi prodotti scontati, quindi in quel giorno se li trovate approfittate e compratele perché il giorno dopo saranno diversi prodotti scontati. E poi ci sono le ultimissime novità e li potete trovare tutte le novità che adesso vi faccio vedere. Nel mio shop online ci sono solo i miei prodotti preferiti che io utilizzo davvero nel mio quotidiano e provo uno per uno. Se mi piacciono li tengo, se non mi piacciono non li vendo. Quindi potete andare sicuri che veramente sono prodotti che utilizzo e che apprezzo, che mi piacciono tantissimo e vi consiglio veramente con tutto il cuore. Quindi comprate con tranquillità che sono tutti i prodotti consigliati da Carlita. Ragazzi una novità stupenda che ho inserito per voi su CarlitaShop.com sono i nuovi fondotinta liquidi di H1000. Le 5 colorazioni sono stupendi perché sono naturali, bio, super performanti, coprenti, non mi fanno uscire impurità, brufoli e punti neri. L'ho usato anche io, lo sto usando ogni giorno e devo dirvi che lo sto amando sempre di più. Per chi vuole una pelle perfetta, una base omogenea però senza che i pori si otturino e senza avere imperfezioni. Ovviamente ha degli ingredienti super selezionati, buonissimi, biologici. Quindi provatelo ed è scontato. Ovviamente è un'offerta lancio, quindi vi straconsiglio di approfittare. Anche essi scontati sono i prodotti al cioccolato di Dr. Organic. Sono buonissimi, straconsigliati per questo periodo dell'anno come regalo o autoregalo. Hanno delle profumazioni al cioccolato buonissime. Ci sono shampoo, balsamo, crema corpo, crema mani. Andate a vedere perché veramente la profumazione al cioccolato vi stupirà. È buonissima. Ragazzi un'altra novità sono i prodotti La Saponaria che sono super super convenienti ed economici. Ovviamente sempre naturali e bio. Le creme corpo, queste penso che non ve le avevo mai fatte vedere ma sono buonissime. Sono creme corpo soffice di carité e crema corpo sorbetto e fiori d'arancia. Hanno delle profumazioni molto dolci e buone e sono veramente ottime per tonificare e levigare la pelle. Provatele perché costano anche pochissimo. Per la Saponaria ho inserito queste candele da massaggio che secondo me sono un'ottima idea per i regali di Natale. Sono delle candele a base di burro di carité e burro di cacao che vengono accese e utilizzate poi per fare dei massaggi rilassanti e super profumati perché sfrigionano un profumo che si libera tutto l'ambiente e in più rimane anche sul corpo. Qualcosa di veramente valido e super conveniente ci sono anche i nuovi shampoo della Saponaria che io vi straconsiglio. C'è anche quello per capelli grassi che tante mi dite che avete questa problematica. Salvi al limone ed è economicissimo. Provatelo perché è ottimo. Poi c'è quello a girasole, c'è tanti diversi. Venite a vedere. E poi c'è anche il balsamo leave-in che è ottimo. Un balsamo senza risciacquo. Grazie per il vostro makeup. Trovate tutti i prodotti di Nabla. In particolare la nuova Poison Garden. Bellissima. La nuova palette stupenda. Veramente la più bella di tutte. Con dei trucchi favolosi che potete usare per ricreare vari makeup. Sia più portabili sia più eleganti. Io ve la straconsiglio. La sto usando ogni giorno e la adoro. E soprattutto adesso se inserite il codice sconto sconto nuovo sito la prenderete scontata perché tutto quello che comprate con questo codice è scontato. Quindi fate super scorta e approfittate anche per i regali di Natale. Ragazzi un'altra sorpresa è quella del Black Friday. Ovvero da venerdì ci saranno altre super offerte su Caritashop.com. Quindi seguitemi anche su Instagram perché su Instagram vi comunico sempre tutte le promozioni. Non solo sul mio primo profilo Carita Torce ma anche sul profilo dello shop Caritashop Online. Lì vi faccio quotidianamente dei post in cui vi suggerisco delle routine tipo anticellulite, tipo per capelli grassi, pelle impura, sulle tematiche da voi più richieste perché ogni giorno siete in centinaia a scrivermi per chiedermi consigli. Quindi ho pensato ogni giorno di pubblicare un post su Instagram con delle routine specifiche per le tematiche più richieste. E poi su Instagram pubblico tutte le offerte, le promozioni. Quindi seguitemi assolutamente su tutti i due profili Instagram. Cos'altro dirvi? Io vi aspetto ovviamente ogni martedì e giovedì qui su YouTube e vi mando un bacio grande. Vi aspetto su Caritashop.com. Venite a vedere e mi raccomando fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate perché la vostra opinione veramente mi fa tanto tanto piacere. Ovviamente mi fa piacere se mi dite che apprezzate il mio lavoro, che vi piacciono le foto, lasciate anche un bel like al video così mi spronate e mi incoraggiate. Cos'altro dirvi? Vi voglio tanto tanto bene mia family. Vi mando un bacio grande. Vi aspetto su Caritashop.com e qui su YouTube ogni martedì e giovedì. Ciao ciao! Ciao, un bacio! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao! Stai che rimani! Adorla, adorla! Tenga la fama, è straverso! Grazie.